Come ti aspettavi a vincere la vincita? Ti aspettavi a vincere la vincita? Ti aspettavi la vincita? È stata una partita molto difficile. Ero carica e pronta a vincere. Ce lo siamo meritato. E' stato un match difficile e lei era pronta a vincere. E lei aspettava la vincita. E lei era molto felice e tutto. Come ti affrontavi con il stress sulla bianca? Come fai a calmare lo stress in panchina? E' molto difficile come cosa perché sono sempre molto stressata. Però grazie all'aiuto delle mie compagne che mi aiutano sempre. Riesco sempre a calmarlo. È davvero difficile deal with the stress, ma con l'aide dei teammates sulla bianca è sempre capace di calmarlo. Quindi il tuo coach ti aiuta? Ti aiuta il coach? Sì, ovviamente. E' anche il mio coach di squadra. E della mia squadra personale. E lo stimo molto. Sì, ovviamente è anche il suo coach di squadra. E lei lo pensa molto molto. Ok, tutto questo. Grazie.